Continua il botta e risposta a distanza tra il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e il ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano. Non ha dubbi il presidente della regione sulla vicenda dei fondi di sviluppo e coesione, di cui chiede lo sblocco e parla di scandalo nazionale, accusando il governo. I fondi sono bloccati da un anno e mezzo, senza nessun motivo reale, ha spiegato De Luca. È una vergogna nazionale. Il Sud è stato tradito e calpestato. Abbiamo oggi opportunità di lavoro che non possiamo cogliere perché le risorse sono bloccate. Tutto il mondo della cultura e dello spettacolo è paralizzato. Le opere stradali sono ferme. Mi pare evidente, ha poi aggiunto, che siamo di fronte a un tentativo di rapina di risorse del mezzogiorno o di discriminazione politico-istituzionale. Sono fondi destinati al meridione, non a qualche ministro. E come già accaduto in altre occasioni, non si è fatta attendere la risposta del ministro della Cultura San Giuliano, che ha replicato. La Campania è stata capace di spendere la maggioranza dei fondi sviluppo e coesione 2014-2020, come certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato. Solo 3,5 miliardi di euro sul totale di 9,3 miliardi stanziati, pari al 37%. Quello che stridi, ha poi concluso San Giuliano, è il confronto tra l'inefficienza parolaia di De Luca e la nostra fattiva operosità.